Siamo all'albergo Lucciola, nel dehors dell'albergo Lucciola, venerdì 17 ottobre C'è un po' di mareggiata, ma lo spettacolo è veramente stupendo, peccato perdersi uno spettacolo così Siamo in mezzo ai fiori del giardino, sul mare, a pochi metri, alla pista ciclabile che è subito dietro a quei fiori, quella bougainville che vedete sull'ingresso, sulla destra Pomeriggio assolato sul mare Il 17 ottobre 2014